bicchiere quando un bicchiere cade a terra si spacca in tanti piccoli pezzi ed è inutile cercare di ricomporlo non avrà mai più lo stesso aspetto mancherà qualche frammento e non combacerà più come prima non sarà più liscio e compatto se proviamo a ricostruirlo quello che vedremo sarà il ricordo di quella caduta di quella disfatta ma possiamo utilizzare quei frammenti per creare qualcosa di diverso per dar nuova vita a ciò che è rimasto la natura del vetro sarà la stessa ma la composizione finale si adatterà a una nuova forma diverrà qualcosa di migliore ancora più bello unico originale ecco la stessa cosa dobbiamo fare con noi stessi quando ci fanno del male è come essere quel bicchiere che è stato scagliato a terra da qualcuno noi ci sentiamo frammentati persi non sappiamo più come tornare a essere noi stessi ma semplicemente dobbiamo evolvere e migliorarci ogni vissuto nel bene o nel male ci porta a cambiare ogni profonda esperienza ci allontana dal nostro io iniziale dimentichiamoci la forma del bicchiere e diveniamo qualcosa di diverso unico e migliore